Ciao a tutti, piacere, mi chiamo Tommaso, vengo da Firenze e sono un ex studente dell'Ars Tutorial. Attualmente sono modellista alzature donne elegante da Gucci. Ho scelto l'Ars perché conoscevo il prestigio della scuola e niente, per me frequentare questo corso è stato molto importante. Venivo da una manovia dove avevo già preso parte di questo mondo lavorativo, però grazie al corso e grazie ai professori che ci hanno seguito costantemente dal primo momento sono riuscito a formarmi in maniera professionale. Abbiamo iniziato dalle basi, come in tutte le cose, dalla fasciatura di una forma, al disegno, alla realizzazione di provette, cartamodelli, tomare, fodere, a una scienza delle varie lavorazioni, pellame, strutture. È stato un corso molto professionale, corso lungo, articolato, impegnativo, un corso divertente e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i professori e i docenti che ci hanno accompagnato. Colgo l'occasione per ringraziare anche le ragazze delle risorse umane che ci hanno accompagnato anche dopo la scuola nella ricerca di un lavoro e niente, quindi un saluto a tutti, un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che entreranno a far parte della Famiglia Arts e buon lavoro e buona passione a tutti. Grazie.